Benvenuti su Keep Looking, un gioco che è molto semplice. È molto semplice questo gioco, ne ho altri in mente, io ho molta paura. È molto semplice. Questo gioco è un gioco in cui siamo chiusi in un grafica 8K. Siamo chiusi in un posto piccolo, con un mostro, semplice ma difficile, questo sicuro. Esatto, esatto, se sbattiamo le pa... siamo di fronte a un mostro, dobbiamo cercare di non farci mangiare. Ogni volta che si spegne la luce, il mostro si avvicina a noi. Ok? L per illuminare e R per caricare. Io lo sto guardando, lo guardo. Lo guardo. Lo guardo. Beh! No! 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 Pezzo di merda! Aspetta, devo ricaricarla subito. Devo ricaricarla subito. Non guardarmi, guardami, guardami! Guardami, 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 guardami! Yes! No, cazzo, ragazzi! Vabbè, ho capito! All'improvviso ciucas casella! No, ragazzi, non mi devo far... Guardami! Guardami! Ma si spegne! Ehi! No, ragazzi, ma questo sta qua! Sono morta! Sono morta, ho la paura! Ho la paura, mi ha quasi preso! No! Ma ho regalato la sabba a Moro! Non lo so, non ho visto! Ah, è vero, hai regalato la sabba a Moro! Bene! Così Moro tornerà a usare le mie emoticon di merda! Non ho capito il gioco... Manco io, ragazzi! Non l'ho capito! Cioè, come deve fare? L per illuminare! E questo per ricaricare! Quando io ho l'occhio, devo toccare? Fissare ti fa venire il maia io! Che cazzo di paura! Ma siamo stronzi! Non ho capito! Ciao, Genshin! Non ho capito! Come si vince questo gioco? C'è qualcosa che... C'è qualcosa che stiamo mancando! C'è anche una classifica! Vedi? Un surfen undivellen è rimasto a guardare il mostro per un'ora! Ragazzi, ma anche io lo voglio guardare per un'ora! Perché non lo posso guardare per un'ora? Almeno due minuti e trentotto! Il mouse è strettamente connesso ai due occhi! Mori in ogni caso! No, ma io voglio capire... Quando lo devo guardare? Guardami! 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 Su! Guardo giù! Smarchio! Dov'era? Non c'era! Un'ora! Non so come si fa, ragazzi! Ho capito male! Forse... Ma lei distoglie! Ma ero lì! Ragazzi, ma ero lì! Devi fissarlo tu con la visua! Lo fisso? Guarda! Fisso! 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 Lo fisso! Ricaricare cosa? Credo la torcia! Spac! Ha! Turn around! Turn around! Turn around! Everybody never made a little bit lonely Wanna flan and groan and round Turn around! Everybody never got a freedom be lost In guanafronic by the sun Turn around! Bright eyes! Ok! Ho capito! Ho capito! Ho capito! Ho capito le regole! Ho capito le regole! Non devo sparmarla subito appena si spegne la luce! No! 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 Mi sta vibrando l'occhio! Devo... Devo farlo... A un certo... Mer... Che asma! No! Non c'è più! Ragazzi non c'è più! Ah! Ok c'è! Ok! Turn around! Lo ho capito! Ho capito le regole! Ho capito le regole ragazzi! Lo guarderemo per un'ora! 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 Io entrerò in quel world record ragazzi! Io entrerò in quel world record! Mia sorella è nudista! No! Schicks! Cazzo! Ok! Turn around! Every now and then I get a little bit wrong! The one around the front and ground! Turn around! E mi vibro agli occhi! Non riesco a guardare! Samantha de Grenet! Fai... Popcorn! Si muove però lui! Non è giusto! Non è peggio del click! Sì è vero! È click che stava... Salumi! Freschi! Da mangiare in compagnia! Siamo arrivati a febbraio! Fermi che sia! Ci siamo ragazzi! Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Io sono già dentro la classifica! Scalogno monzese! Ehi! Tua sorella fa un castro! Pronto! Accendi! Chi è che bussa? Abbiamo il gioco per la maratona! No ragazzi! Lo devo tenere in mano! Sallustio! Ok! No 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 no! Non alzarmi! Alzami su dritto! Rimani dritto! Ok! Ok! Venerdì 12 ore così! Ragazzi lo tengo in mano! No ragazzi! Hass! No! No! No ragazzi! No! Si è avvicinato! No no no! 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 Marmal! Marmal! No! Ma si sta muovendo stu scema! Sta droppando il suo nuovo album! Scarcuro! Dai accenditi! Ma è mia sorella! Salvia! E niente! Mi vibrano gli occhi ragazzi! Mi vibrano gli occhi! È troppo tardi! È troppo tardi! Mi vibrano gli occhi! Ciao! Fai! E niente ragazzo! Ce l'ho! Turn around! Every now and then! Can I get a little be frown the one of me! È arrivato! No no no! Però ragazzi! Devo entrare in classifica! Devo entrare in classifica! Sono passati almeno due minuti! Spark! Ok! No! No! Scooby-Doo! Si! 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 Non dovevamo essere i primi! No! Un'ora la vedo veramente lunga! Sminchia! Ok! No no no! Non vibrare! Non vibrare! Stai fermo! Piano! Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Cosa è che sta spessando le sedie questo mostro? Oddio ragazzi! No! No! 5 minuti e 36 però! Tecnicamente dovremmo essere in classifica! Ehi! Classifica globale! Ragazzi! 5 minuti e 36 dovremmo essere in classifica! Dove sono? Cin... Ma non ci sono! Ma non ci sono! Ma non ci sono! Ma non ci sono! 5 minuti! So qua! Dovrei essere al posto di Beppe Kneppe! Sono 5 ore! Ma che vorresti dirmi che una persona al primo posto sta per un giorno! Magari a giornalmente! Quindi domani devo controllare di nuovo se qualcuno mi ha preso il po' Aspetta! Magari la riavvia! Aspetta! Classifica! Adesso! Dammi la classifica! Aspetta! Ragazzi no! Io non me ne vado! Io devo entrare in questa classifica! Ma c'è Dark Clothes e Peli! Perché ci sono tutti tranne me? Ma se esco e riapro? Cioè se esco e riapro? Che non ci credo! Non ci voglio credere! No! Non volevo giocare! Esci! Esci! Aspetta! Eh! Eh! Ma vedi che mi dà tempo 9.57 raga! Oddio ho cambiato lingua! Ragazzi! Come si chiude! Cos'è Kentapi? Eh! Cos'è questa! You're bravo! Cos'è questa roba? Lo spendo! Va bello! Bellissimo! Meraviglioso!